Non mi viene da finire Ciclo! Ciao ragazzi! Oggi sono qui con un nuovo video In questo video mi mostrerò le aspettative cioè quello che noi vorremmo succedesse d'estate contro le realtà, quello che succede in estate Beh, voglio andare a fare Sono pronta! Andiamo! Grazie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anche quest'anno niente vacanza. No, 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 no. No, 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 no.